e lui fa manovra lui fa manovra vai sotto e gira vai probabilmente il beta che fa con l'effetto ah lì si arriva in filo lungo che cani sei giù vai di là dove c'è il no troppo basso che non fa in tempo ma che vada arrivi corto e ti fermi dai dai su dai l'ultima che finiamo dopo ci spostiamo dai mi stai schiacciando tutti i ciclamini non 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 via via dai vai vai mettene un'altra più su che è tutto pulito se no non andiamo via più di qua ormai più tracciata di così si la tenuta lo stesso e porca tratta era sbagliata ma l'ha tenuta stessa nella non 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 non